Buonasera e benvenuti. Grazie di essere venuti e di essere presenti a questo quinto incontro. Siamo quasi alla fine, quindi cominciamo a capire sempre di più di questi meccanismi di base della biologia dei tumori che vediamo sempre di più a contatto con la biologia cellulare e con la biologia dello sviluppo embrionale. Allora, oggi il relatore è il professor Mario Petrini. Mario Petrini è ematologo. Dopo dei brevissimi sceni si è lavorato nel 75 in medicina, successivamente ha svolto il suo internato in ematologia e poi a partire dagli anni 90 ha alternato dei soggiorni di ricerca in laboratori americani e in Olanda al suo lavoro di ricercatore in clinica medica a Pisa. Poi nel 90, intorno al 90, ha fondato il suo laboratorio di ricerca qui a Pisa dove ha cominciato a svolgere i suoi studi e la sua attività di ricerca che continua a portare avanti anche oggi. Nel 98 è diventato professore associato, nel 2001 professore ordinario di ematologia, nel 2010 è stato eletto preside della facoltà di medicina. Attualmente dirige l'unità di ematologia universitaria qui a Pisa. È autore di più di 400 pubblicazioni. Quindi direttore di questo centro, che è l'unità di ematologia, che è un centro leader nei trapianti di midollo. Noi conosciamo questo e mille altri titoli del professor Mario Petrini, però questo secondo me per me è insufficiente a descrivere l'uomo e lo scienziato, perché intanto, oltre che essere un clinico di grandissima fama, secondo me è in primis uno scienziato, uno sperimentatore di altissimo livello in biologia cellulare e molecolare. Questo non è semplice e non è automatico, soprattutto quando si fa la clinica. E poi, secondo me, è una persona estremamente curiosa e estremamente disponibile con i giovani, per quanto, ne so, questi sono i motivi per cui noi lo abbiamo chiamato qui oggi, a parlarci di una delle cose che ancora ci manca capire e sapere, cioè delle basi dei tumori del sangue e di questo famoso concetto di nicchia, di cui anche ci parlerà. Per farla breve do la parola al professor Mario Petrini. Hai il microfono? No, guarda qua. Benissimo. Grazie, grazie dell'invito, buonasera. Io, tra colleghi, ho pensato di impostare questa chiacchierata, come vedete, sulle cellule staminali leucemiche e sull'ambiente che condiziona lo sviluppo della neoplasia, facendo riferimento a dati noti della letteratura, ma soprattutto parlando delle cose che facciamo noi, in modo, spero, da suscitare la vostra curiosità e da poterne parlare, poter discutere. È evidente che gli esperimenti che facciamo sono in linea con la letteratura e quindi in questo modo penso che stiamo facendo un po' di conoscenza e anche un po' di aggiornamento su concetti, scusate, su concetti che evolvono continuamente. Il midollo osseo è la fabbrica del sangue. Come questo si realizzi, tra un po' proviamo a vederlo, ma negli anni la struttura del midollo osseo è stata interpretata in vario modo, come un ambiente ematico, come un ambiente estrematico e condizionato dalla composizione cellulare, quindi microambiente, poi più recentemente è comparso il concetto di nicchia, che è diventato una sioma. La nicchia serve dappertutto. Forse, forse, alla fine di questa conversazione ci renderemo conto che non esiste nemmeno la nicchia e che tutte le volte in scienza noi poniamo una definizione e ci divertiamo a distruggerla. E questo è vero a partire dalle cellule staminali. Intanto non sappiamo neanche bene cosa dobbiamo intendere per cellula staminale. Se noi, brevissimamente, ma proprio a mo' di scherzo, guardiamo come si sviluppa come si sviluppa il difficilissimo questo come si sviluppa l'embrione dalla fecondazione dell'ovocita con lo spermatozoo dopo pochi passaggi troviamo un momento cruciale che vedete qui definito come la blastocisti. Se noi sciogliessimo questa blastocisti e recuperassimo le cellule saremmo in grado di avere una popolazione cellulare che cresce indefinitamente aderente alla plastica senza bisogno di niente se non dei terreni di coltura e cambiando il terreno di coltura saremmo in grado di indirizzare queste cellule a fare qualsiasi organo. è questa una vera cellula staminale che unisce in sé due concetti il concetto di capacità di differenziare in tanti tessuti diversi ma anche il concetto di automantenersi qualsiasi tessuto pensate alla pelle pensate ai capelli al follicolo pilifero se non avesse una riserva di cellule staminali di cellule che mantengono la permanenza del tessuto piano piano si esaurirebbe quindi il nostro concetto di cellula staminale è legato a due aspetti grande capacità differenziativa e grande capacità di automantenimento perché se non c'è l'automantenimento l'organo finisce ma dalle basi della biologia noi sappiamo che una cellula se differenzia perde la capacità di automantenimento quindi una cellula da origine a due cellule figlie identiche a se stessa oppure si trasforma e ancora una volta se si divide da due cellule figlie uguali a quelle da cui deriva insomma il concetto di differenziazione e di automantenimento i concetti sono difficili da ammettare insieme e ora andiamo un po' più avanti su questo però il nostro sogno è di trovare delle cellule che siano capaci di avere la funzione staminale nell'adulto sappiamo che ce n'è forse qualcuna nell'embrione nell'embrione nel feto le cerchiamo nell'adulto e questo ha impegnato la ricerca io direi per una quindicina d'anni a cercare una cellula con la quale riparare qualsiasi danno possa avvenire nell'organismo questa ricerca di una cellula isolabile ha cominciato a vacillare di fronte a questi due premi Nobel il primo dimostra che se si prende un nucleo di una cellula matura e si mette dentro un'ovocita si riesce a far partire questo nucleo come se fosse un nucleo appena fecondato cioè l'unione dei due gameti la pecora d'olli infiniti animali speriamo non uomini fatti in provetta ma certamente questo dimostra che nelle nostre cellule i geni che codificavano per la Toti potenzialità ci sono sempre sono soltanto sopiti il citoplasma dell'ovocita è capace di risvegliare questi geni una volta che il citoplasma riconosce che il nucleo è diploide attiva l'informazione sul nucleo stesso in maniera che questo ricomincia a proliferare come se fosse una cellula appena fecondata capiamo subito quindi che in teoria è possibile svegliare questi geni in qualunque momento soltanto che lo possiamo saper fare il lavoro successivo premio Nobel preso insieme il lavoro successivo arriva alla stessa soluzione in un altro modo prende qualche gene attivo tre attivi nella fase embrionale e li trasfetta in una cellula somatica questi geni sono mantenuti attivi dai promotori insomma queste cose le sapete meglio di me e succede che da questa cellula somatica che si chiama ora IPC cioè indotta si riescano a ottenere cellule staminali capaci di fare qualsiasi tessuto allora come potremmo definire oggi una cellula staminale come una cellula capace di bilanciare l'autorinnovamento verso la differenziazione guardate noi produciamo così tanti globuli rossi globuli bianchi e piastrine nel nostro sangue che se non avessimo poche cellule staminali capace di dare origine a una progenie molto espansa dovremmo viaggiare con un carretto dietro pieno di cellule perché fisicamente matematicamente non entrerebbero nel nostro organismo quindi c'è bisogno di un processo espansivo per tappe un processo che si manifesti un processo che è di origine a molte linee cellulari diverse e qui ci possiamo subito trovare dove la mettiamo la staminalità il concetto di staminalità a una cellula che sa fare un organismo intero cioè tutti i tessuti o ci accontentiamo di qualche linea e tutto sta trovarsi d'accordo per i fini clinici e pratici una cellula che sia capace di fare soltanto alcune linee può essere utilissima e vedremo tra un attimo il trapianto di midollo certamente invece il concetto di staminalità è una cellula che sa fare tutto che ha quindi una capacità proliferativa molto alta voglio dire che da una sola cellula ne derivano tantissime ma che contemporaneamente sta a riposo perché altrimenti si esaurirebbe ciclo lento poche cellule quiescenti prevalentemente quiescenti alcune di queste cellule le utilizziamo in clinica noi sappiamo che se portiamo via un pezzetto di fegato a un paziente magari per donarlo un pezzo della madre o del padre a un neonato che non ha sviluppato il fegato bene il fegato trapiantato il pezzettino si ricostituirà completamente sappiamo che il fegato tagliato si ricostituirà completamente così come fa la coda di una lucertola ugualmente sappiamo che la periferia della cornea è capace di rigenerare la cornea anche in vitro e noi possiamo costruire delle corne da trapiantare partendo da un pezzettino residuo di un limbo in un paziente che si sia bruciato la cornea per esempio con l'acido trasferendo le batterie della macchina ma l'esempio che mi è più familiare è sicuramente quello del midollo nel midollo noi sappiamo che da un unico tipo di cellula che possiamo identificare e chiamare per nome e la chiameremo CD34 perché attraverso gli anticorpi monoclonali identifichiamo la cellula noi sappiamo che questa cellula farà tutti i globuli rossi tutte le cellule bianche e le piastrine che ci servono per tutta la vita un esempio funzionale di cellula dell'esistenza della cellula staminare sta per esempio negli isolotti pancreatici in quelli che producono l'insulina in un paziente in un soggetto normale mettiamo che questo sia un isolotto pancreatico normale se il paziente ingrassa e quindi c'è bisogno di più insulina l'isolotto aumenta vuol dire che dentro ci sono delle cellule capaci di farla aumentare funzionalmente ugualmente succede in gravidanza ma quando la donna partorisce non ha più bisogno dell'increzione di insulina così elevata l'isolotto torna al volume iniziale e se da qualche altra parte c'è un tumore che produce insulina l'isolotto sembra atrofizzarsi ma rimosso il tumore ritorna alle dimensioni necessarie per produrre la quantità di insulina indispensabile in ematologia sappiamo che c'è una cellula dalla quale derivano tutte allora chiamiamo questa staminale per comodità questa cellula dalla quale derivano tutte le cellule del sangue si espande orientandosi da una singola cellula verranno i precursori dei globuli rossi o dei globuli bianchi e questi precursori si moltiplicano e mano a mano che si moltiplicano differenziano se volete maturano fino a produrre il nostro fabbisogno quindi come vedete un'espansione molto grande di tipo logaritmico che porta a una produzione sostenuta e che cambia a seconda delle esigenze a partire da una poche cellule nel nostro midollo e che questo sia vero ve lo dimostro qua vedete questa non è altro che una coltura fatta con limiting dilution cioè prendendo un po' di midollo di un paziente diluendolo moltissimo in maniera che per ogni fiasca di coltura capsula di petri ci sia soltanto una cellula bona fide se noi mettiamo queste cellule a crescere in alcuni casi troveremo delle colonie come se fossero colonie di batteri molto ampie se guardate c'è del rosso e del bianco cioè da questa cellula unica bona fide sono derivate tante cellule diverse se io sciolgo questa colonia e la risemino riesco a ottenere ancora una volta altre colonie come queste ma solo per poche volte cioè sto utilizzando dei precursori ma non una vera cellula staminale capace di mantenere la produzione per tutta la vita e precursori più definiti li trovo qua questa fa solo globuli bianchi e qua questa fa solo globuli rossi se semino di nuovo queste non otterrò neanche ulteriori passaggi però queste immagini che sono ottenute nel laboratorio mio ma insomma le trovate dappertutto sono immagini che ci fanno capire come da poche cellule possiamo avere un'espansione enorme sfruttiamo questa come concetto di staminalità e lo sfruttiamo perché trovare delle cellule che sappiano fare questo ci permette di fare trapianto di midollo prendiamo un bambino un ragazzo che abbia una leucemia noi possiamo anche sconfiggerla la leucemia distruggendo tutto il midollo buono e cattivo dopodiché la persona morirebbe per mancanza di sangue ma se troviamo un donatore compatibile in qualche modo che ci dà un pochino di midollo e noi glielo mettiamo nelle vene il midollo lo reinettiamo le cellule staminali quelle cd34 di cui parlavamo prima tornano a casa vanno dentro il midollo osseo ripopolano il midollo e durano tutta la vita sanno fare solo sangue lo vedremo ma certamente sono staminali perché rispondono al concetto di espansione e al concetto di automantenimento stessa cosa la possiamo fare con l'autotrapianto devo fare una terapia molto forte il mio midollo non può sostenerla mi tolgo un po' di midollo lo metto da una parte faccio la terapia rinietto il mio midollo questo permette di andare su con i dosaggi dei farmaci ma per oggi quello che ci interessa è che questo pochino di midollo che io mi sono preso dal mio osso 50 millilitri 100 millilitri piccoli volumi se lo metto nelle vene le cellule staminali vanno a ripopolare per tutta la vita il midollo che io ho vuotato lo prendo dalle vene e vanno nel midollo ma allora vuol dire che le cellule staminali del midollo possono andare a giro e infatti posso fare una mobilizzazione stressando il midollo con farmaci e recuperare dal sangue periferico le cellule midollari staminali e quindi non ho neanche più bisogno di andare a bucare l'osso per prendere il midollo quanto staminali sono io mi riferisco sempre a questo lavoro della Ferrari che ormai è diventato vecchissimo ma è sempre interessante perché lei studiando a Milano la mobilizzazione delle cellule staminali decise di fare un esperimento concettualmente semplice prese un topolino gli prese il midollo trasfettò le cellule con un marcatore cioè con un gene della galattosidasi che non è presente nei mammiferi il prodotto di questo gene può essere messo in evidenza con una reazione citochimica allora è preso un topino gemello lo irraggiò in maniera da distruggere il midollo prese il midollo marcato lo mise nel topino senza più propria produzione di sangue e quando questo topolino finalmente stette meglio l'ammazzò così impara e però non l'ammazzò e basta lo fece a fette con un salamino e andò a cercare di capire dove fossero finite le cellule del midollo osseo e che fossero nel midollo ce le aspettavamo ma che fossero qua non ce lo aspettavamo e cos'è questo è il muscolo quindi le cellule staminali ematopoietiche CD34 vanno a finire anche nel muscolo lungo le guaine dei muscoli e forse fanno muscolo contribuiscono allo sviluppo muscolare naturalmente il lavoro fu subito ripreso da un gruppo giapponese che pensò che il primo muscolo interessante sia il cuore e fece lo stesso esperimento solo che per mandare le cellule nel cuore pensarono di danneggiarlo quindi fecero una piccola ischemia come un piccolo infarto e l'infiammazione che si genera nell'ischemia fa da attrazione fece da attrazione per queste cellule staminali vedete nelle fibre muscolari cardiache si vede bene da questo tipo di fluorescenza ci sono andate a finire delle cellule di un topolino se a questo topolino legando una coronaria si faceva venire un infarto si vede che l'infarto in parte ripara direi che tutti i lavori della letteratura da allora ad oggi tendono a dimostrare che non è vero che le cellule ematopoietiche riparano il muscolo forse forse fanno vasi in questo muscolo danneggiato e riportano l'ossigeno e fanno risvegliare il cuore che non è ancora morto in quella zona oppure fanno un sincizio cioè si fondono con le cellule cardiache e fanno una nuova struttura che è capace di proliferare non so rispondere a questa domanda devo dire la letteratura è molto molto in contraddizione e anche questo tema piano piano si è affievolito nell'interesse mentre rimane da capire il punto iniziale come fa una cellula a rimanere staminale ci sono due teorie e tutte e due fanno riferimento alla teoria della nicchia cioè cosa immaginiamo o cosa è stato immaginato che nel midollo osseo ma anche nel follicolo pilifero anche nella mucosa intestinale cioè da qualunque parte ci sia o una ricostruzione di tessuti continua ci sia uno spazio una specie di nicchia appunto di casina dove una cellula staminale si annida e dove le interazioni tra le cellule che costituiscono la casina la nicchia e la cellula staminale mantengono la cellula in uno stato non differenziato quando uno stimolo una citochina che esprima la necessità dell'organismo di avere più cellule più diciamo globuli rossi fa proliferare questa cellula cioè supera il blocco che viene dato dalla nicchia la cellula si divide ma nella nicchia non c'entra più e allora la cellula figlia perde la capacità che esce una delle due esce dalla nicchia perde la capacità di essere controllata bloccata e può finalmente iniziare la differenziazione esiste anche un altro modello che fa sempre riferimento alla nicchia che è un modello stocastico cioè casuale dove una parte di cellule supera il blocco della nicchia e proliferando esce la nicchia vuota farà attrazione per un'altra di queste cellule staminali che casualmente si divide ma mantiene la staminalità e quindi va a ripopolare una nicchia il fatto che noi possiamo trovare i cellule staminali del sangue nel sangue periferico ci dimostra che effettivamente anche questa è vera cioè che le cellule vanno a giro mi pare però che immaginare una casina una nicchia sia un modello divertente ma un pochino elementare forse il concetto non sta proprio in un'immagine strutturata così anche se interessante e allora per arrivare a raccontarvi quello che abbiamo fatto o pensiamo di aver fatto per identificare la nicchia devo parlare di un'altra popolazione di cellule così che anche vedremo se le cellule staminali esistano oppure no cioè la staminalità sia funzione invece che sostanza noi per esempio sappiamo che se prendiamo delle cellule del midollo e mettiamo a fare le colture abbiamo visto siamo bravissimi a fare quei grandi colonie ma queste colonie si esauriscono rapidamente se vogliamo mantenere più a lungo la capacità di fare quelle colonie dobbiamo prendere le nostre cellule del sangue e metterle su uno strato di cellule dello stroma del midollo cioè quelle strutture quelle cellule che costituiscono la struttura che per un po' sono state chiamate fibroblasti per un altro po' sono state chiamate cellule reticolari ma oggi sono chiamate cellule mesenchimali è un po' n'ipersemplificazione ma rende bene l'idea le cellule mesenchimali sono conosciute da una trentina da anni forse di più ma la identificazione di questa popolazione la razionalizzazione la fece nel 2001 la Verfail una ricercatrice francese che lavora negli Stati Uniti che prese del midollo lo fece aderire alla plastica butto via tutto quello che non era aderente e ottenne queste cellule fusate queste cellule fusate lasciate lì cominciano a crescere e riempiono il fondo della capsula di Petri ora voi sapete la storia dell'inibizione da contatto quando le cellule sono tutte strippate una accanto all'altra smettono di crescere ma se stacchiamo queste cellule con un enzima proteolitico come la tripsina o come volete voi e le seminiamo diluite questa popolazione di cellule continua a riempire fiasche su fiasche sempre con queste cellule affusolate cellule che come vedete durante la loro proliferazione non invecchiano perché i telomeri cioè la parte terminale dei cromosomi che si accorcia con l'invecchiamento rimane uguale cioè rimangono cellule giovani e non acquisiscono mutazioni vuol dire che queste cellule non costituirebbero un rischio se le dovessimo usare a scopo clinico la cosa più interessante forse è che se noi prendiamo questa popolazione di cellule e cambiamo il terreno di coltura noi siamo in grado di fare cellule che producono l'osso osteoblasti l'abbiamo presa dal midollo ematico ma il midollo sta nell'osso non è che ci stupisca così tanto e questa immagine vi fa vedere reazioni immunochimiche di proteine caratteristiche degli osteoblasti come l'osteopontina ma soprattutto vi fa vedere la deposizione con la vancossa la colorazione di vancossa di calcio di idrossiapatite cioè di osso vero allora queste cellule sanno fare l'osso l'abbiamo prese dall'osso va bene se cambiamo terreno di coltura però riusciamo a fare cartilagine ma sappiamo che la cartilagine durante il periodo di sviluppo fa la cartilagine di accrescimento se cambiamo ancora terreno di coltura facciamo grasso allora cominciano a saper fare tre cose oggi la definizione di cellula mesenchimale è questa una cellula che sia in grado di fare osso cartilagine e grasso queste cellule quindi hanno un alto potenziale clonogenico cioè riescono a crescere tantissimo indefinitamente e danno origine possono dare origine a una progenie differenziata in base al terreno che ci mettiamo dentro quindi in base all'ambiente esterno della cellula noi attiviamo una via di differenziazione diversa quindi attiviamo geni che sono dentro le cellule ma che sarebbero sopiti naturalmente noi abbiamo fatto queste cose come vedete i CUCCS è un finanziamento regionale che ci è stato dato molti anni fa per fare la stessa cosa alla fine sono preso un po' di midollo messo in questa fiasca vedete le cellule effusate queste cellule effusate hanno dei marcatori sono in parte identificabili con degli anticorpi monoclonali cluster division 105-90 se vedete all'inizio appena messe ad aderire le cellule CD 105-90 positive ce ne sono poche l'1,3% ma dopo qualche giorno queste cellule diventano tante e sono tutte per il 99% 105-90 abbiamo buttato via tutto quello che non era aderente e la popolazione diventa omogenea ma è proprio omogenea guardate bene alcune cellule sono scure questa è una colorazione per le fosfatasi alcaline che sono un marcatore di differenziazione ossea osteoblastica ma già all'inizio solo una parte di cellule è negativa per questa colorazione quindi la nostra popolazione apparentemente staminale in buona fede omogenea è in realtà già etereogenea ai primi passaggi se guardiamo questa immagine che è nostra che non è affatto dissimile da quella della Verphail notiamo che tra tutte queste cellule allungate ce ne sono alcune bifrangenti che sono obiettivamente differenti va bene però noi abbiamo fatto pedissequamente la differenziazione in cartilagine in grasso e in osso e l'abbiamo ottenuta quindi sono le nostre cellule mesenchimali poi abbiamo deciso che a questo punto potevamo provare in un ambiente autologo quindi in uno stesso individuo a trasformarli in osso per riparare grandi lesioni osse e siccome queste cellule dovevo dare a un chirurgo abbiamo pensato di metterle dentro uno scaffold che in questo caso è un coagulo abbiamo preso quindi del plasma di un paziente abbiamo preso prima di tutto il midollo osseo del paziente abbiamo cresciuto le cellule mesenchimali abbiamo dato una iniziale differenziazione osteoblastica le abbiamo messe dentro il plasma dello stesso paziente quindi è tutto in ambiente autologo ci abbiamo aggiunto del carbonato di calcio e abbiamo ottenuto questi coaguli pieni di cellule dove dentro le cellule ci stanno e se diventano marroni con questa colorazione della fosfatase alcalina vuol dire che sono cellule che fanno osso e infatti fanno depositi di idrossiapatite qui è nera qui è rossa ma insomma la colorazione i granulini neri all'inizio sono pochi poi diventano tanti perché nel passare dei giorni queste cellule sono capaci di depositare calcio dentro il coagulo stanno bene questa è un evidente mitosi il grafico accanto ci fa vedere la proliferazione anche qui quando do uno stimolo osteoblastico queste cellule si riducono riducono la loro capacità di proliferazione ma sono lì stanno bene e allora e questo è il nostro coagulo colorato con una colorazione che fa vedere le cellule vive il coagulo senza cellule bianco il coagulo che c'ha dentro le cellule che sono vive ha preso un bel colorino azzurro che qui si vede in bianco e nero ancora le cellule dentro il coagulo ci stanno proprio bene messo in cultura le stesse cellule abbandonano il coagulo cosa che c'è utile perché se io fossi stato così pazzo da prendere questo coagulino con le cellule del midollo osseo e l'avessi messo in un paziente al quale mancava osso avrei potuto fare un sassolino invece le cellule se escono dal coagulo dovrebbero essere in grado di fondersi con le strutture circostanti e magari fare una riparazione di una persona al quale manca un pezzo d'osso abbiamo fatto la prova nell'animale non è mica vero prima l'ho fatto nell'uomo e poi nell'animale ma però abbiamo utilizzato un sistema per creare una lesione misurabile sempre uguale nel femore di un ratto il ratto ha la fortuna di avere quattro gambe e quindi posso fare quattro test da una parte ci ho messo le cellule mesenchimali dentro il coagulo dall'altra parte nulla e vedete che nella parte dove ho messo le cellule staminali col coagulo l'osso è riparato queste sono immagini fantastiche è un attack su osso isolato fatta con un apparecchio un tomografo realizzato come vedete dai fisici della fisiologia clinica proprio per questo esperimento quindi un esperimento come dire importante e qui vi fa ancora vedere la riparazione in vivo questa volta non è più l'osso isolato ma è dentro la coscina del tarpone qua è il ratto ancora non ha riparato perché non ha avuto le cellule mesenchimali mesenchimali qua è riparato più rapidamente e allora abbiamo provato a farlo nell'uomo se noi prendiamo queste cellule mesenchimali le trattiamo come detto e le mettiamo in una lacuna di osso dovremmo poter riparare l'osso in questo caso si tratta di un soldato che è saltato in Albania su una bomba e che ha una gamba più corta dell'altra di 12 cm come dico ai miei studenti alle mie studentesse provate a mettervi un tacco 12 da una parte e nulla da quell'altra e provate a camminare e non si cammina e infatti era sulla sedia a rotelle gli ortopedici sostenevano che non sarebbe stato possibile riparare una così grande mancanza di osso e allora ci mette facciamo una pazzia in quegli anni si poteva fare e gli ortopedici segarono l'osso misero questa struttura di supporto in maniera che le due monconi stessero in asse e nel mezzo ci misero i miei coaguli fatti con le cellule del paziente e come vedete l'osso è riparato e il paziente ha le ginocchia questa volta pari altri casi sono stati trattati in seguito vedete sempre lesioni femorali importanti mancanza di osso sostituito con osso nuovo fatto a partire da questi coaguli questa volta era 7 cm questa è una pseudartrosi non ci voglio entrare una immagine molto molto esplicativa abbiamo da questo paziente un maschio di 50 anni che si rompe il femore vedete qua la rima di frattura e che il femore allora viene riparato perché il collo del femore viene fissato con delle viti vedete quei chiodoni in maniera che la testa stia nell'acetabolo e l'angolo del femore sia rispettato dopo però un po' di tempo cioè 6 mesi invece che saldarsi il femore si distacca l'angolo si modifica e l'osso qui viene riassorbito si crea una pseudoartrosi cioè un'artrosi che non guarisce e allora i nostri ortopedici levano due di quei chiodi ce ne mettono due nuovi uno è fisso lo rimettono in posizione ma difficilmente questa gamba potrebbe guarire questo femore potrebbe saldarsi e allora pensano di chiederci di preparargli le cellule staminali che iniettano nel buco si vede bene con le frecce nel buco lasciato libero da un chiodo come vedete non solo il buco si ossifica ma la zona dove c'era il riassorbimento dell'osso la freccia di destra e la freccia di sinistra viene ripopolata cioè abbiamo rifatto osso come dico sempre questi sono non sono esperimenti sono casi clinici io non ho la prova provata che le mie cellule siano davvero state capace di ricostruire l'osso che siano state cellule mesenchimali staminali osteoblastiche che hanno ricostruito l'osso però questo è successo quest'altro invece è un esperimento il cavallo saltatore si rompe facilmente l'equivalente del nostro tendine d'achille e quando il cavallo saltatore si è rotto il tendine non ci si può fare più niente il cavallo non potrà riparare quel tendine l'unico tipo di riparazione che possiamo ottenere è fare una forte infiammazione e creare una cicatrice sul tendine ma la cicatrice ha un andamento intanto è fatto da collageno e non da sostanza tendinea poi ha un andamento vorticoso appena il cavallo viene messo sotto stress il tendine si rompe di nuovo quindi sicuramente il cavallo non potrà correre noi abbiamo fatto preso dallo sterno del cavallo un'impressione non ve l'ho immaginato nemmeno andrà a bucare il cavallo un bestione preso dallo sterno del cavallo meglio gli uomini sono più piccoli prese le cellule mesenchimali le abbiamo fatte crescere abbiamo visto che crescono linearmente quindi crescono bene insomma cellule mesenchimali uguale a quelle dell'uomo e le abbiamo iniettate senza nessun condizionamento nel tendine del cavallo come vedete non so se riusciamo a vederlo qua c'è un buco è l'ecografia del tendine lì in quel buco ci sono state iniettate le cellule e dopo sei mesi il buco è completamente riparato non succede se non ci mettiamo dentro le cellule se poi guardate qui accanto le fibre sono tutte parallele cioè la produzione di questo particolare collagene che costituisce il tendine è stata orientata in maniera da riparare il tendine così come è stato fatto da madre natura abbiamo preso 15 cavalli abbiamo trattato in un modo e 15 cavalli abbiamo trattato in un altro i cavalli trattati con la maniera convenzionale cioè facendo infiammazione non sono potuti tornare a correre quelli che l'hanno fatto si sono rotti di questi 15 cavalli 13 sono tornati a correre nella stessa categoria uno non ci ha dato le cellule mesenchimali cioè sotto un milione per centimetro quadro non sono risultati sufficienti a riparare un altro ci aveva il proprietario come dire non molto smart che l'ha fatto correre dopo una settimana e naturalmente il cavallo è finito in pista però questo esperimento ci dice un sacco di cose ci dice che le cellule mesenchimali in questo caso sono state staminali per i tenociti cioè le cellule che vivono nel tendine e producono il tendine ci dice che le cellule autologhe non hanno creato più o meno tendine di quello atteso cioè le dimensioni di quel tendine stanno tutte nel patrimonio genetico di quel cavallo e loro hanno fatto quel tendine come lo dovevano fare che l'ambiente cioè le sostanze che stanno nell'ambiente condizionano la crescita di quelle cellule è un passaggio importante perché ci tranquillizza molto ci tranquillizza anche il fatto di avere richiamato i pazienti ortopedici che avevamo trattato quando si poteva fare ora non si può fare più a meno di avere laboratori che non abbiamo li abbiamo richiamati dopo dieci anni abbiamo visto che stanno bene non gli è venuto il tumore dove avevamo paura che potesse venirgli non gli è cresciuto più osso non è stato riassorbito stanno bene come questi cavalli ora si passa un attimino alla parte più sperimentale se volete un pochino più didattica quando noi abbiamo staccato le cellule che aderivano alla plastica cioè le nostre cellule mesenchimali cresciute in un terreno dove il supporto nutrizionale era dato dal plasma del paziente tutto autologo abbiamo visto che dopo vedete tripsine e DTA cioè roba che spacca il legame delle cellule con la plastica ci rimaneva in fondo un po' di robetta queste cellule tonde e allora una dottoressa Luisa Trombi che lavora da noi disse ma queste cellule sono vive cosa ci stanno a fare portiamole avanti e l'ha portata avanti qualche mese fin tanto che c'è stato il siero del paziente poi il paziente era guarito era andato via è finito il siero ma io non le butto via ci metto il siero di vitello fetale il siero di vitello fetale è normalmente utilizzato per mantenere la coltura cellulari quindi niente ma messo il siero di vitello fetale immediatamente vedete dopo 60 giorni che queste cellule dove è la freccia stavano in coltura riprovo con questo trespolo dopo 60 giorni che queste cellule stavano in coltura senza fare niente semplicemente stavano vive messo il siero di vitello fetale si riformano le cellule mesenchimali queste allungate fino a riempire di nuovo la piastra allora in un tempo breve vedete 7-10 giorni allora abbiamo cominciato a fare esperimenti su esperimenti dimostrando che queste cellule rotonde danno origine a cellule mesenchimali che sono capaci di fare osso cartilagine bla bla se noi stacchiamo le cellule mesenchimali ce ne rimangono ancora di cellule rotonde che sono capaci ancora di dare osso cartilagine e così via per numerosi passaggi fino a che le cellule non invecchiano perché poi non è che si invecchia solo noi anche le cellule fanno la stessa cosa e che queste cellule che rimangono sul fondo della piastra hanno la capacità mantengono la capacità proliferativa questo grafico vuol dire esattamente questo cioè che la capacità proliferativa di queste cellule è mantenuta nei vari passaggi allora le nostre cellule mesenchimali non sono più staminali hanno voglia di chiamarsi mesenchima stem cells dentro c'è una popolazione dalla quale loro derivano che quindi diventa oggi staminale e tutti contenti abbiamo scoperto pensiamo pensavamo di avere scoperto le cellule staminali mesenchimali cioè le staminali delle staminali siccome queste cellule avete visto rimangono appiccicate alla plastica giocando col tipo di plastica siamo riusciti a purificarle all'omogeneità poi le abbiamo fotografate questa è una microscopia elettronica vedete in alto a sinistra sono piene di peruzzi e sono quei peli che le tengono attaccate saldamente alla plastica tanto da resistere sono cellule granulari grosse il ricercatore che lavora su queste cose di Vornese e quindi le ha chiamate a uovo fritto e sono conosciute nel mondo come cellule a uovo fritto non ce l'ho qui i vornesi soltanto per l'ultima partita ma cosa sanno fare queste cellule osso cartilagine e grasso ve l'ho detto fino alla noia se le mettiamo nel tessuto di differenziazione neurogenico cioè il tessuto dove crescono i neuroni mi fanno queste cellule ora chi di voi ricorda come sono fatti i neuroni è difficile dire che questi non siano neuroni e se vado a farle reagire con per esempio la beta 2 la beta 3 tubulina l'anticorpo anti beta 3 tubulina che è una proteina specifica dei neuroni vedete si illuminano questa è una reazione in fluorescenza allora abbiamo fatto neuroni no perché queste cellule non conducono lo stimolo probabilmente però sono cellule che se riuscissimo a coltivarle meglio potrebbero anche condurlo non lo so somigliano morfologicamente a neuroni e hanno le proteine dei neuroni ma capite che è un passaggio grosso perché stiamo parlando di cellule mesenchimali cioè del foglietto mesodermico centrale che si trasformano in cellule epiteliali dell'ectoderma della cresta neurale beh cominciamo a andare in ipotesi molto fantasiose e che voglio lasciare qui ma soltanto come concetto di staminalità la nostra popolazione è una popolazione estremamente immatura per esempio esprime le aldolasi che sono è un'enzima che è presente nelle cellule molto immature nell'uomo se vado a vedere in immunofluorescenza l'espressione di geni che sono attivi durante il periodo fetale trovo che questa popolazione che chiamo ora mesenchimal progenitor cells esprime l'SSA4 gene embrionale esprime lo CT4 che è un gene embrionale e Nanog che è un altro gene embrionale ma di più con questa microscopia che è ancora una microscopia ottica tradizionale non è un microscopio confocale vedete che intorno alla cellula nostra MPC che non è rossa perché non esprime l'actina filamentosa intorno si formano le cellule mesenchimali cioè rende proprio l'idea questa immagine che dalla cellula formante unità centrale CFU intorno nascono e crescono le cellule mesenchimali mi sembra una suggestiva prova del fatto che queste cellule che hanno geni embrionali attivi si comportano da vere staminali delle mesenchimali siamo andati a vedere l'espressione genica ne avete parlato l'altra volta e abbiamo dimostrato che queste cellule hanno molti geni delle cellule embrionali attivi abbiamo dimostrato che hanno i telomeri più lunghi e quindi scendono più basso nella migrazione elettroforetica delle cellule mesenchimali che stacco che separo per distacco con la tripsina quindi sono cellule ancora più giovani ancora più immature e che esprimono geni embrionali cosa sta succedendo non lo so più eccola questa fa vedere all'incirca la stessa cosa il confronto al microscopio tra le cellule nostre e le cellule mesenchimali con geni attivi di tipo embrionale ma queste cellule sono embrionali abbiamo preso delle cellule embrionali umane avevo la fortuna di avere una persona molto cara negli Stati Uniti negli Stati Uniti si potevano ottenere le cellule embrionali umane ha preso e me le ha mandate e allora siamo andati a vedere ma ha mandato solo il DNA e non le cellule siamo andati a vedere se i geni embrionali fossero ugualmente espressi nelle cellule embrionali umane e nella nostra popolazione cellulare e quanto differentemente rispetto alle cellule figlie della nostra popolazione cioè alle cellule mesenchimali e vedete che questo gene è un po' più espresso nelle cellule embrionali che sono al centro un po' meno nella nostra popolazione molto poco nella popolazione mesenchimale lo stesso per quest'altro gene lo stesso per quest'altro gene qua invece no SOX12 è espresso soltanto nelle cellule embrionali ma non nella nostra popolazione prova provata la nostra popolazione non è una popolazione staminale embrionale non ha la potenzialità della cellula staminale embrionale però è vantaggiosa abbiamo visto le cellule embrionali possono essere indotte traspettando dei geni bene alcuni di quei geni che sono necessari per trasformare una cellula matura in una cellula staminale sono questi e questi geni la nostra popolazione le esprime già quindi diventa un ottimo materiale per lavorare lasciamo perdere questa come fa la nostra cellula quali meccanismi mette in moto la nostra popolazione cellulare per diventare cellula mesenchimale qua è un cartone dove si vede bene scusate la cellula a uovo fritto che diventa piano piano una cellula mesenchimale matura o questo è un passaggio se ce la fate a stare attenti perché mi serve molto un pochino più avanti per affrontare il tema della nicchia questo passaggio avviene attraverso l'attivazione di Wint è un fattore che le cellule stesse si producono e che reagisce con un recettore che qui è indicato da questa serpentina che è Frisled la interazione di questi fattori tutti autoprodotti porta alla maturazione di questa cellula mi trovo male alla maturazione di questa cellula in una cellula intermedia che ha qualche caratteristica della cellula madre e qualche caratteristica della cellula figlia fino a che poi diventa cellula figlia noi possiamo voglio semplificare tutte queste immagini noi possiamo modulare questa trasformazione andando a inibire le vie di attivazione intracellulari che Wint induce reagendo col proprio recettore Wint attiva il nucleo con tre vie noi le possiamo elettivamente inibire ne possiamo inibire due perché la terza via determina la morte cellulare se viene inibita in particolare la calmodulina inibisce l'attivazione della via canonica se noi aggiungiamo questa calmodulina cioè questo un inibitore della calmodulina cioè un veleno che mi blocca l'attivazione della via canonica di Wint non otteniamo più le cellule mesenchimali però la cellula rimane viva e come vedremo sa fare vasi cioè ha una proprietà angiogenetica dissociare essere in grado di dissociare la maturazione verso le cellule mesenchimali e quindi verso l'osso la cartilagine il grasso e quello che volete voi dalla capacità di fare vasi diventa particolarmente importante per la dimostrazione che vi voglio fare del ruolo che la nostra popolazione cellulare ha nella costruzione della nicchia le cellule che sanno fare i vasi hanno una grande sete di lipoproteina e voi vedete qua questa colorazione verde ci fa vedere come le nostre cellule le MPC siano in grado di incorporare la lipoproteina quindi sono cellule che hanno un programma angiogenetico un programma di fare vasi se noi le confrontiamo però con le cellule endoteliali che professionalmente fanno i vasi vediamo che a 72 ore le cellule UVEC che sono estratte dall'endotelio del cordone umbilicale fanno questi bei tubi mentre la nostra popolazione cellulare non fa niente ma allora perché ha delle caratteristiche di produzione di vasi delle caratteristiche endoteliali se noi aspettiamo un po' di più sette giorni in ricerca ci vuole pazienza tanta pazienza vediamo che quando le cellule UVEC sono ormai andate a male non c'è più nulla nella piastra la nostra popolazione comincia a fare questi tubulini piccolini e questi tubulini piccolini li fa anche se ci mettiamo l'inibitore della via canonica cioè il calmidazolo allora quello che dicevo prima la differenziazione mesenchimale è diversa segue vie metaboliche intracellulari diverse dalla via che porta alla produzione dei vasi questo tipo di produzione di tubicini piccoli si chiama sprouting ed è diverso dalla produzione che fanno le cellule endoteliali che producono vasi solo su un piano mentre qua i vasi sono prodotti su tre piani in tridimensionale allora le nostre cellule sono per caso endoteliali abbiamo fatto espressione genica e vedete il confronto del geni che codificano che si trovano normalmente nelle cellule endoteliali geni attivi geni che si trovano normalmente nelle cellule mesenchimali geni che si trovano nella nostra popolazione cellulare colore verde celeste e rosso indicano le tre popolazioni come scritti in alto a sinistra e vedete che l'attivazione genica è diversa le nostre cellule non sono endoteliali però se io prendo queste cellule e le metto in coltura per un tempo sufficientemente lungo ottengo che posso identificare qua la popolazione cellulare con scusatevi mi metto gli occhiali con la capacità di captare le lipoproteine e vedete che questa capacità ce l'hanno solo le nostre cellule e le cellule uvec vado ora a confrontare le nostre cellule con lo stadio di differenziazione premese genchimale e trovo che la nostra popolazione cellulare ha capacità di migrare cosa abbiamo fatto abbiamo preso un filtro un filtro milipor quindi un filtro con dei pori piccolissimi abbiamo messo sopra le cellule e sotto un attrattante per attrattante abbiamo utilizzato il sero di vitello fetale che abbiamo visto attiva ma soprattutto abbiamo messo SDF1 SDF1 è una chema trattante anche per le cellule endoteliali e voi vedete che sotto a questo filtro ci troviamo soltanto le cellule mpc qua sopra qui non c'è gradiente possiamo analizzare quello che c'è sotto il filtro qua c'è una forte popolazione cellulare qua c'è una forte popolazione cellulare ma quando le cellule differenziano verso le cellule mesenchimali sotto il filtro ci troviamo più che poca roba cosa vuol dire che la nostra popolazione è una popolazione che ha capacità di migrare ora la prossima lezione prossima conversazione sentirete parlare della capacità di dare metastasi da parte del tumore una cellula neoplastica per poter andare in giro deve perdere le caratteristiche epiteliali che non sono compatibili col fatto che la cellula abbandoni la propria membrana basale alla quale è attaccato ma deve acquistare caratteristiche mesenchimali sentirete parlare del epitelial mesenchimal traslation cioè trasformazione acquisizione di proprietà mesenchimali da parte delle cellule epiteliali ma non tutte le cellule mesenchimali questa popolazione più immatura che è capace di migrare perché quelle altre non sono capaci di migrare allora noi abbiamo davanti una popolazione cellulare che ha delle caratteristiche endoteliali che non è endoteliale che può fare piccoli vasi e che migra se noi facciamo questo esperimento uno sferoide cioè prendiamo una sorta di gelatina ci mettiamo dentro tante cellule e in tridimensionale queste cellule cominciano in pochi giorni vedete in sette giorni a fare vasi tubicini intorno a questa nucleo centrale guardate che bei tubi ci abbiamo qua questo lo sanno fare soltanto le nostre cellule non lo sanno fare neanche le cellule endoteliali che fanno tubi più grandi ma non sanno fare questo tipo di neoangiogenesi iniziale ma cos'è questa neoangiogenesi iniziale non è altro che la punta tip dei vasi che si neoformano un vaso che si formi per riparare una cicatrice ma anche per far sviluppare un feto ha bisogno di un trascinamento che segue fattori chemiotattici questa popolazione quindi si pone come una popolazione che fa da guida per lo sviluppo del vaso che sarà poi fatto dalle cellule endoteliali ma è tutto vero lo posso dimostrare in vivo sì in vivo abbiamo preso un uovo modello cam se voi prendete un uovo fecondato e ci mettete aprite il guscio e ci mettete sopra un pochino di gelatina che contenga una popolazione cellulare potete andare a vedere nei giorni successivi se in questa gelatina si formino cose nell'interesse nostro vasi il modello della cam per i vasi lo vedete bene qua vedete come dentro questa gelatina che noi mettiamo si possano sviluppare dei tubi tubi che possono essere di origine del pulcino o delle cellule che mettiamo noi questo è il modello l'uovo può anche venire aperto l'uovo fecondato aperto messo fuori dal guscio in una capsula di petri a 37 gradi 5% di CO2 ambiente umidificato lui cresce farebbe il pulcino se lo lasciassimo stare qui sopra io ci posso mettere la mia gelatina meso in pro con dentro le cellule che voglio è chiaro che se metto solo gelatina e poi dopo un po' di qualche ora perché il fenomeno è veloce sacrifico l'uovo lo fisso lo includo lo coloro vedete cosa trovo nulla trovo qui la gelatina e sotto l'abbozzo degli embrioni di pollo se ci metto la nostra popolazione cellulare rapidamente la gelatina si gonfia perché dentro si formano vasi un nido di nuovi vasellini questi vasellini li vedete bene a più grandi ingrandimento più forti ingrandimento qua se ci metto invece le cellule già orientate in senso mesenchimale ancora prima che diventino mesenchimali vedete dentro la gelatina non c'è niente io ho qui le mie cellule che non hanno fatto tubi non hanno fatto vasi sono state vive qualche ora ma non hanno costruito vasi quindi non le cellule mesenchimali ma la nostra popolazione più immatura dai ancora chiamiamola ancora per un po' staminali delle staminali è capace di fare vasi queste sono le cellule endoteliali che fanno vasi diversi vedete come sono più grossi però fanno vasi ma quei vasi che le nostre cellule fanno sono vasi prodotti dalle cellule o un'invasione un'attrazione della circolazione del pollo io devo rispondere a questa domanda ma rispondo facilmente coloro con un anticorpo anti una proteina umana non presente nel pollo il mio preparato e vedete che tutto il verde tutto il verde ci dice che è uomo nel pollo quindi quelli sono vasi fatti dalle cellule umane le nostre cellule sanno fare vasi nella cam nell'embrione del pollo una caratteristica che ha la nostra popolazione cellulare è che esprime un gene nestina gene nestina è un gene curioso perché è presente nelle cellule neuronali più immature però lo esprimono anche altre popolazioni cellulari dove ha un ruolo funzionale tra queste popolazioni cellulari le nostre esprimono molto bene la nestina e allora siamo andati a vedere dove siano le cellule nestina positive nel midollo umano andando a colorare per la nestina il midollo umano abbiamo trovato due popolazioni di basi A e A che sono note sono grossi vasellini il circolo del midollo è particolarissimo se volete ne parliamo dopo ma ora mi porterebbe fuori strada però abbiamo identificato anche due nuove strutture mai descritte molto più piccole una formata da tubicini piccinini e una neanche cavitata tubi solidi queste sono le strutture più grandi colorate per la nestina in immunistochimica vedete marrone in taglio longitudinale o trasversale tondo e chiaramente trasversale e poi siamo andati a vedere dove le cellule staminali ematopoietiche CD34 stanno rispetto a queste strutture e voi vedete che molto vicino questi sono pochi diametri cellulari dalle nostre cellule marroni ci stanno cellule ematopoietiche staminali non somiglia per niente alla nicchia di cui abbiamo parlato prima ma c'è un rapporto di prossimità tra la popolazione nestina positiva e le cellule staminali andando a vedere ora con microscopio confocale quindi con una risoluzione molto più definita e soprattutto in fluorescenza le nostre popolazioni di vasi abbiamo trovato questi vasi piccolini molto più piccoli di quelli fino ad ora descritti questi e addirittura questi queste microstrutture tubulari formate da cellule nestina positive che noi pensiamo o auspichiamo sia nella nostra popolazione cellulare se andiamo a vedere qua le cellule CD34 in rosso dove stanno quelle isolate rispetto alla nostra popolazione verde vedete che stanno a una distanza relativamente breve la cosa interessante e forse più chiara viene con questo grafico questa è la lettura di questi diametri e voi vedete che le cellule staminali sono molto più numerose molto più vicine ai vasi più piccoli che non ai più grandi questi qui alla sinistra del grafico sono i vasi piccolissimi i vasi intermedi e poi le e le a allora la nostra popolazione contribuisce in qualche modo al sostegno di queste cellule staminali abbiamo detto che la nostra popolazione è così orientata a fare cellule a fare tubicini che neanche se blocchiamo la via canonica di attivazione della popolazione cellulare riusciamo a farle smettere di fare vasi allora è possibile che questa popolazione che contribuisce al microambiente alla nicchia la popolazione mesenchimale una sottopopolazione delle cellule mesenchimali abbia un ruolo in qualche malattia cioè nel mantenere la cellula staminale del tumore bisogna capirci un attimo cos'è un tumore un tumore una neoplasia è una massa di cellule che cresce in maniera finalistica al di fuori delle regole di un tessuto e che si automantiene se noi prendessimo una neoplasia di un paziente la sciogliessimo e seminassimo le cellule troveremmo che una parte di quelle cellule è capace di generare tumore in un ospite ora siccome non si può attaccare tumore a un'altra persona proviamo sui topi immunoincompetenti e vediamo che solo una piccolissima parte di tutte le cellule tumorali è capace di generare nuovo tumore il tumore ha una sua eterogeneità ma certamente non è così vario come un organo quindi quella popolazione di cellule che è capace di ridare origine al tumore è stata chiamata staminale ma in realtà non è una cellula staminale perché è scema sa dare origine soltanto a quel tumore con quella variabilità interna modesta quindi le cellule staminale neoplastiche sono un bel nome ma in realtà noi dovremmo chiamarle cellule capaci di iniziare il tumore come cellule particolarmente immature ma la cellula capace di iniziare il tumore cioè di mantenersi e poi dare origine anche al tumore ma di mantenersi se no il tumore poi si sgonfierebbe ha anche lei bisogno di una nicchia dove possa rimanere in uno stato quiescente e possa differenziarsi verso il tumore ma rimanere anche come cellula staminale allora abbiamo preso un modello una malattia terribile mieloma multiplo una malattia distruente mieloma multiplo che tra l'altro certamente non deriva da una cellula staminale perché deriva ce l'avevo la diapositiva vabbè la vedremo se capita deriva questo mieloma multiplo da linfociti che sono passati dai linfonodi quindi non più la cellula del midollo da cui originano i linfociti ma una cellula più matura che diventando neoplastica riacquisisce le capacità di cellula staminale se noi andiamo a vedere la capacità delle cellule nostre tratte da soggetti normali verso la capacità delle cellule nostre tratte da pazienti con mieloma vediamo che solo le cellule che derivano dal soggetto normale sono inibite dal calmidazolo cioè inibendo la via di attivazione di wind le cellule che derivano dal mieloma continuano a fare mpc cellule mesenchimali se io utilizzo questo farmaco che blocca il mieloma ma blocca la neoangiogenesi trovo che le cellule normali nostre differenziano di più in osso siccome il mieloma è caratterizzato da fare dei grandi buchi nell'osso questo farmaco ci dà tanta aspettativa perché io lo do a un paziente e spero che rigeneri l'osso questo me lo fa sì per le cellule normali ma non me lo fa per le cellule miromatose se vado a vedere la formazione di nuovi vasi le cellule che derivano dalle cellule mesenchimali che derivano dalle nostre cellule estratte dai pazienti mi fanno vasi anche quando sono diventate mesenchimali dunque abbiamo detto cellula staminale nostra cellula mesenchimale la cellula mesenchimale certamente non sa fare vasi ma la cellula nostra che non è neoplastica è una cellula sana condizionata dalla cellula neoplastica mi fa vasi anche dopo che è differenziata in qualche modo verso cellula mesenchimale e il farmaco che inibisce l'angiogenesi riesce a inibire questa differenziazione angiogenetica cioè la produzione dei nostri vasi ecco perché questo farmaco fa tanto bene ai nostri pazienti non entro dentro questo perché mi rendo conto che la sto facendo un po' troppo lunga concentrazioni relativamente basse di questo farmaco mi bloccano vedete qua azzerano la produzione di vasi normali ma rallentano molto la produzione di vasi nel paziente cioè perfino questo farmaco è meno è attivo ma meno attivo che nel normale nel paziente cosa vuol dire questo vuol dire che il paziente normale ha delle cellule nelle nostre che fanno da una parte vasi e da una parte cellule mesenchimali che fanno osso e che questo farmaco blocca la produzione di vasi nel soggetto normale ma non blocca la produzione di osso nel paziente lo stesso farmaco blocca la produzione di vasi ma non blocca il differenziamento verso cellule mesenchimali che tuttavia sanno fare vasi e non sono fermate dal cammin d'azzolo cosa vuol dire però perché oggi che vi devo parlare di nicchia vi ho fatto questa po' di storia lunga vuol dire che una popolazione cellulare che appartiene alla nicchia viene condizionata dal tumore a cambiare le proprie caratteristiche cioè la cellula neoplastica dà dei messaggi all'ambiente dove vive tali da modificare le funzioni dell'ambiente stesso e modificarle in maniera vantaggiosa per il tumore il fatto il fatto di avere vasi vuol dire portare nutrimento al tumore vuol dire perdere la regolazione dell'apporto di ossigeno e di fattori nutritizi e quindi vuol dire che il tumore condiziona l'ambiente ma lo condiziona forte perché quando io tolgo le cellule buona fide della nicchia dal paziente le metto e le lavo e le metto in coltura e ce le tengo sette giorni queste cellule ormai sono condizionate e commissionate a fare vasi per il tumore il concetto quindi di cellula neoplastica di staminale neoplastica va visto alla luce di due situazioni la capacità della cellula di automantenersi ma non avrebbe la cellula neoplastica questa capacità se non modificasse l'ambiente ma capite che questa è una scommessa enorme perché fino ad ora noi abbiamo combattuto i tumori sparandogli delle grandi cannonate che portavano via buono e cattivo cercando di ammazzare la cellula neoplastica ma oggi posso provare a cambiare la struttura della casa della nicchia del microambiente dove sta la cellula staminale neoplastica in maniera semplicemente da farla differenziare e se la faccio differenziare il tumore si esaurisce se non c'è la cellula iniziante il tumore che si automantiene il tumore si esaurisce e come esempio del ruolo della nicchia vi porto quest'altro che è c'ho ancora un po' di tempo sì che è un esempio fantastico perché c'è una malattia la leucemia miroide cronica che è un tipo di leucemia così fatta viene al paziente il paziente aumentano un po' i globuli bianchi sta bene poi si trasforma e dopo cinque anni invariabilmente ammazza la persona non trattata avete visto all'inizio il laboratorio Michele Cavaliere era un giovane un giovane vent'anni con questo tipo di malattia che morì pochi giorni prima che uscisse il farmaco da cos'è caratterizzata il farmaco che ora vi spiego da cos'è caratterizzata questa leucemia da una traslocazione reciproca bilanciata del cromosoma 9 sul cromosoma 22 che fa sì che si formi un gene ibrido un gene che è formato da un pezzo di gene che stava da una parte e un pezzo di gene che stava dall'altra al meglio delle mie conoscenze questo è l'unico esempio l'unica malattia dove un'alterazione è fondante e responsabile della malattia purtroppo i tumori sono complicati ma questo è un tumore se mi permettete non è proprio così ma un tumore più semplice perché è un guasto questo guasto io tra l'altro lo posso contrastare perché se identifico come gene ibrido questo vetto giallo e arancione cosa succede cosa fa questo gene questo gene ibrido nella sua porzione BCR attiva si attiva si fosforilizza consuma ATP e trasferisce il fosforo sulla parte gialla che è gene Abelson BCR ABL gene ibrido e ABL attivato determina costitutivamente attivato determina tutto quello che è la malattia ma siccome possiamo fare in farmacologia tridimensionale in silico possiamo capire come è fatta questa struttura e possiamo disegnare delle molecole che possano entrare in quella tasca di fosforilazione in quella nicchia vedete quel pallino celeste identifica nient'altro che una farmaco che una medicina che è data nell'organismo si diffonde e ha un'affinità per quella tasca per quella struttura aminoacidica di quella proteina se entra lì io blocco la capacità di metabolizzare il fosforo e ammazzo la malattia allora ritorniamo al nostro concetto di nicchia questa è la cellula leucemica in una nicchia che vedete è cresciuta si è allargata molto perché in questa nicchia in questo microambiente oltre alla cellula staminale leucemica ci sta la cellula staminale normale che è inibita dai prodotti di attivazione della cellula leucemica quindi la cellula leucemica piano piano guadagna il suo spazio e è condizionata la cellula leucemica dalla produzione delle cellule della nicchia per quanto ci riguarda dalla produzione delle cellule mesinchimali se noi calcoliamo una zona vascolare che è questa e una zona periostea vediamo che la nicchia ora non è più quella casina ma è questo spazio tra la zona vascolare e la zona periostea ognuna delle quali è capace di dare nutrimento alla cellula staminale e di tenerla lì ferma inchiodata bloccata qui vedete le cellule blu sono quelle malate e vedete che ci sono le cellule gialle che sono quelle sane che piano piano vengono sostituite come sono queste cellule staminali come le posso identificare beh è uscito non tanto tempo fa vedete nel 2014 un bellissimo lavoro che dice guardate le cellule solo le cellule neoplastiche della leucemia mieloide cronica esprimono un certo un certo marcatore che è cd26 che identifica una proteina che è una di amminopeptidasi non ve ne importa nulla comunque una proteina che non è presente nelle altre cellule delle altre malattie nelle altre cellule quali? nelle altre cellule cd34 cioè nelle altre cellule staminali abbiamo detto la cellula staminali ematopoietica cd34 nella leucemia mieloide cronica questa cellula esprime cd26 e solo nella leucemia mieloide cronica questo è una fish cioè viene colorato con l'ibridazione dei pezzettini di dna che vanno a riconoscere il dna sulla cellula colorati marcati con un florocromo uno di giallo e uno di verde siccome il cromosoma 9 e il cromosoma 22 sono distanti io troverò un verde qua e un rosso qua ma vedete anche che qua giù il rosso e il verde sono appiccicati tanto che danno un colore giallo vuol dire che lì i due cromosomi i due pezzettini di cromosomi sono andati insieme bene questa cellula esprime i cd34 e cd26 le cellule che non hanno i cromosomi fusi non esprimono cd26 nello stesso paziente questi invece sono studi nostri dei nostri laboratori dove si vede che le cellule cd34 positive esprimono la proteina bcr abl prodotta dal gene ibrido ed esprimono anche bm1 che è un gene presente sulle cellule più immature e che conferisce una particolare aggressività a questa malattia più che aggressività resistenza ai trattamenti ancora vedete bene i due geni bcr abl la produzione la proteina e bm1 al microscopio confocale il merge cioè le due fluorescenze rimontate insieme in computer ma perché vi parlo di questo perché voglio tornare al ruolo della nicchia dunque noi prendiamo un paziente con la leucemia meroide cronica e diamo questa bella cura e la malattia sparisce se smetto la cura anche dopo cinque anni la malattia ritorna cioè è rimasta la cellula staminale leucemica nel malato la mia inibizione non gli è servita assolutamente a nulla ho tolto tutta la progenie ma non ho tolto questa cellula cosa vuol dire vuol dire che la cellula staminale per rimanere viva non ha bisogno di questa proteina ibrida se sta quieta se sta liquiescente ci può stare per anni senza aver bisogno di esprimere quella proteina ma il target della mia cura è la proteina se non c'ha la proteina e perché non esprime la proteina e questo è un lavoro bello di Perseo dello Sbarba di Firenze che dimostra che l'ipossia che è presente nel ambiente midollare nella nicchia nel microambiente a questo punto chiamatelo come volete l'ipossia che per noi è molto suggestiva del fatto che quei tubuli non siano neanche vuoti dentro e che quindi l'ossigeno lì non ci possa arrivare bene l'ipossia che è presente e che conosciamo inibisce la produzione della proteina allora inibendo la produzione della proteina nella cellula staminale fa sì che la cellula rimanga lì viva ferma ma soprattutto insensibile al nostro trattamento e ora vi finisco distruggendo tutto quello molta parte di quello che ho detto abbiamo trovato queste cellule che ci sembrano tanto importanti perché sono i babbi e le mamme delle mesenchimali perché probabilmente vanno a far parte della nicchia perché mi creano sono corresponsabili della crescita di alcuni tumori e allora io so che sono 90 positive 105 positive posso andare a prendere dal midollo ci sono delle macchine che mi trovano le cellule che hanno reagito con gli anticorpi e me le separano se io vado a togliere dal midollo questa popolazione cellulare 105 debolmente positiva 90 negativa e la metto sulla mia piastra da cottura e non ci trovo le cellule mpc e non ci sono e dove sono questi sono tutti vedete esperimenti di sottrazione sono in una popolazione che ha delle caratteristiche dei monociti che non è fatta da monociti che non è non ha la capacità di fare quello che le mpc sanno fare cioè non mi aderisce alla plastica e non mi fa le cellule mesenchimali se però io prendo questa popolazione sortata la tengo in coltura allora da questo gruppo di cellule isolate mi derivano delle cellule che aderiscono alla plastica e che sono le nostre mpc e che sanno fare tutto quello che sanno fare i nostri mpc ma in vivo le mpc come le conosco io non ce l'ho questa è una roba complicata di colorazione delle sottopopolazioni cellulari midorlari che ci fa vedere come la popolazione dalla quale derivano le mpc cioè la staminale delle staminali delle staminali di questo stiamo parlando del precursore delle cellule staminali che sono staminali per le cellule mesenchimali staminali che sono staminali per l'osso questa popolazione sta qua e la posso identificare e la posso sortare a questi marcatori 131 18 31 sono analisi citoflorimetriche che ci permettono di fare che di tirare giù una popolazione che qui ora vi vedo stanchi non è endoteliale ma parzialmente si sovrappone alle endoteliari non è monocitico macrofagica non è nulla delle cellule che conosciamo come precursori delle mesenchimali e che diventa mesenchimali in vitro ma allora forse non è il momento questo è solo vanagloria perché ci hanno dedicato una copertina di una rivista ma allora forse non è il momento di dirci chiaramente che le cellule mesenchimali le cellule staminali la maggior parte delle cellule staminali non esiste e che la staminalità è funzione funzione delle condizioni dell'ambiente in cui vivono le metto nella plastica queste cose mi diventano mesenchimali di cambio il terreno di coltura mi diventano osso grasso cartilagine mi fanno vasi ma allora vuol dire che esiste una popolazione di cellule sufficientemente immatura sufficientemente plastica che può diventare mesenchimale epiteliale forse neuronale che cioè ha la capacità di riattivare quei geni sopiti dai primi passaggi dopo il concepimento capite che in termini di oncologia questo è importante perché un conto è pensare che perché si sviluppi un tumore bisogna trovare una cellula target staminale presente in quel tessuto e che si danneggia un conto è dire che lesioni nocive possono risvegliare dei geni e possono trasformare una cellula in staminale cioè iniziante del tumore ma ve l'ho fatto vedere vi ho fatto vedere la cellula CD34 positiva che ha le caratteristiche della staminale normale con un guasto dentro ma vi ho anche fatto vedere il mieloma che deriva da una cellula matura che quindi è stato riattivato in cellula capace di proliferare ma soprattutto capace di identificare il microambiente di modificare il microambiente le strategie terapeutiche quindi oggi sono diverse da quelle del passato interagire con la relazione microambiente e nel microambiente ci metta anche il sistema immunitario e il tumore diventa più importante che andare a cercare il nemico e ammazzarlo possiamo semplicemente affamarlo oppure educarlo a crescere e a cambiarsi in una cellula matura ma il destino delle cellule mature è la morte è l'apoptosi e quindi possiamo sperare di esaurire i tumori e lo facciamo in tante leucemie senza bisogno della chemioterapia e quindi questo è il modello saranno veri tutti e due una cellula staminale che può diventare neoplastica e differenziare da una parte o dall'altra una cellula già differenziata che può transdifferenziare o tornare indietro alla staminalità attivando il patrimonio genico che fino ad ora non conoscevamo e che è stato addormentato e siccome qui c'è la professoressa Ton Giorgi vi faccio vedere questo per dire stiamo a vedere alla finestra come Caiebot cosa sta succedendo fuori perché il mondo ci sta cambiando tra le mani grazie io ringrazio particolarmente il professor Petini perché finora è quello che più di tutto ha messo attenzione in una serie di processi alla base della biologia dello sviluppo e anche dell'omeostasi delle interazioni fra cellule diverse quindi intuzione nicchia cross-talk come diciamo noi conversazione fra tipi cellulari diversi quindi ora intanto se ci sono domande subito io direi di farle poi dopo dopo il coffee break chiaramente c'è la discussione anche un caffè per svegliare bene quindi se non c'è un'urgenza urgente noi ci ritroviamo qui alle 5 e un quarto eh diciamo il vantaggio di questi minuti che ci restano per fare domande osservazioni quindi se abbiamo avete maturato dei pensamenti delle domande dei quesiti partiamo subito dalle domande io per esempio personalmente sono stato veramente colpito dalla complessità di queste interazioni che vanno al di là dalla dalla conformazione spaziale di quello che pensavo essere la nicchia questa è una nicchia chimica farmacologica fra cellule anche distanti vai sì io avevo una domanda ma vai prima no 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 dicevo che mi prenotavo per dopo no niente anch'io ero rimasta positivamente stupita perché è una cosa nuova per me a questa ho visto l'attenzione è stata spostata quindi dalla cellula alle popolazioni di un certo tipo alla relazione tra cellula e tipi di popolazioni e ambiente ecco ora mi chiedevo quali sono i mediatori le molecole che veicolano questo dialogo e quali sono i meccanismi alla base ovvio saranno tanti diversi complessi ma se si può magari a qualcosa già accennato accennava alle citochine se si può ecco sì grazie l'interazione cellula neoplastica ambiente è senz'altro complicatissima prima di tutto sono le molecole di adesione CXCL4 CXCL12 CXCR4 sono importanti per l'interazione poi dipende molto dal tipo di cellula per esempio abbiamo parlato del mieloma le cellule neoplastiche producono interleuchina 6 che serve ad automantenere la neoplasia ad attivare le cellule linfocitarie quindi la risposta linfocitaria ma anche attivare le cellule mesenchimali le cellule mesenchimali producono DDK4 che inibisce gli osteoblasti che a loro volta non producono più l'osteoprotegerina e quindi sbloccano gli osteoclasti cioè è un network intricatissimo pauroso complesso noi andiamo a semplificare il modello io ho parlato a proposito della cellula della leucemia mieloide cronica che rimane lì per l'iposia ma poi in realtà rimane lì che è una cosa affascinante ma in realtà poi rimane viva e resiste a farmaci per meccanismi di cambio resistenza cioè questo microambiente è un mondo ora da noi quello che cercano di fare è di andare a misurare quelle proteine che conosciamo essere presenti nel microambiente e condizionare per quello che conosciamo la protezione della cellula nella saliva cioè vuol dire che è una produzione importante quantitativamente significativa se da midollo osseo vado a vedere nella saliva quante proteine ci sono qualcuna lo so la maggior parte no però se possiamo lavorare su modelli semplici appunto come la saliva il siere è già più complicato e facendo della proteomica penso che ci avvicineremo parecchio a capire cosa fa cosa già l'ossigeno già l'ossigeno l'ipossia attiva gene hip e il gene hip mi attiva fenomeni di messa a riposo della cellula staminale quindi e parlo dell'ipossia come cosa più semplice volevo sapere a più volte detto all'inizio della lezione che certe tecniche non si possono fare più non si fanno più ecco quindi no no sì cosa intendeva grazie intendevo un'altra cosa quando noi dobbiamo utilizzare per uso clinico cellule staminali amplificate questo era l'esempio classico cellule mesenchimali indirizzate in senso osteoblastico coltivate a lungo e modificate anche se semplicemente con medicine abbiamo bisogno di avere un livello qualitativo di tipo produzione che vuol dire mettere su una roba che si chiama GMP in pratica una fabbrica ora non è economicamente sostenibile fare una fabbrica per preparare terapie individualizzate diventa estremamente costoso in Italia se ne sono state fatte una quindicina ne funziona una perché non può reggere ora se poi mi chiedete perché si va in uno sfondo come dire di politica generale internazionale e di interessi delle case farmaceutiche nessuna casa farmaceutica avrà mai interesse a sviluppare una terapia personalizzata salvo Novartis che sta facendo la modificazione delle cellule T contro la leucemia al banale prezzo di 450 mila euro a trattamento ora 450 mila euro a trattamento stiamo parlando di una metodica che è fatta sotto K cioè in ambiente sterile la K è testata dopo io posso prendere il materiale prima di darlo all'uomo vedere se è contaminato se non è contaminato lo darò all'uomo cosa che abbiamo fatto allora che possiamo fare una K 10 mila euro l'esperimento tutto compreso quando è costato 3 o 4 mila euro siamo contenti 450 mila euro questo se volete si parla fino a domani sulla sostenibilità del sistema sanitario mondiale comunque adesso è penale cioè se io facessi oggi quei trattamenti lì e vi garantisco che gli ortopedici ogni tanto vengono dicendo Mario ma facciamolo di nascosto ci avrei penale e non lo posso fare di nascosto perché Galera possibilmente no sono rimasto come biologo dello sviluppo questa non c'entra molto però poi ci può rientrare diciamo sull'argomento neoplasia sono rimasto stupito di come quando uno trapianta cellule mesenchimali in un osso in rigenerazione no in un osso in una cavità perché lì non c'è un osso è molto lontano dalla parte di rigenerazione dell'osso fratturato anzi non c'è più rigenerazione vabbè si viene fratturato una nuova volta comunque quando uno trapianta in questa cavità delle cellule queste in sostanza rigenerano fino al punto giusto cioè riformando la struttura senza né cedere né cioè questi segnali che normalmente sono presenti durante l'accrescimento o che sono presenti in quanto le diciamo da punto di vista fisico perché normalmente le osso in una frattura si giustappongono e quindi c'è da riempire un piccolo pezzettino com'è che invece nel caso di quei trapianti le cellule mesenchimali sono riuscite a ricomporre esattamente la struttura mancante ma se normalmente la gamba destra viene uguale a quella sinistra vuol dire che da qualche parte c'è un progetto che quell'individuo deve avere le gambe lunghe un metro e settanta se è femmina e 30 centimetri se è maschio cioè ribalto la domanda quando cellule mesenchimali acquisiscono un fenotipo tumorale e cominciano a crescere lo fanno in modo non controllato dove sta la differenza? La differenza sta nel fatto che il progetto di sviluppo della cellula neoplastica si svincola da qualunque freno e controllo il problema del tumore è che ha perso la capacità di essere controllato da se stessa e dall'ambiente probabilmente dall'ambiente e molto anche da se stessa allora la neoplasia è neoplasia proprio perché ha una crescita afinalistica smisurata e la fisiologia invece ha una crescita che è finalizzata alla costruzione di un organo a parte a parte rari i casi in cui quando tagli la coda a una lucertola gliene crescono due normalmente cresce una coda uguale a quella che c'aveva un po' più scura dal bimbetto è cattivo mi divertivo però sono rimasto affascinato come faccia a ricrescere la coda perché a me se ne taglio il piede non mi cresce è questa popolazione di cellule forse mi può aiutare so che se taglio un pezzo di fegato questo è fantastico però allora noi abbiamo un chirurgo epatico bravissimo un chirurgo bravissimo che riesce a prendere un pezzettino di fegato e trapiantarlo in un feto in un bimbo nato senza fegato bimbo nato senza fegato poche ore di vita muore allora gli trapianto un pezzettino di fegato del babbo o della mamma ma quel fegato lì diventa un fegato che poi cresce d'accordo con lo sviluppo del bimbo non è che gli viene un fegato così o un fegato così allora vuol dire che non è soltanto il l'informazione igienica che quel fegato ha di riformare il fegato uguale a quello del babbo c'è tutto un controllo ambientale che è fondamentale le volevo le volevo chiedere se ci fosse la possibilità di prendere queste cellule e provare a ricostruire magari lesioni spinali per esempio o è solo un sogno e poi la seconda curiosità che mi è venuta in mente è che quello che sta facendo lei i suoi colleghi è come cioè disassemblare proprio il corpo umano e cercare di rileggere la sua storia proprio evolutiva per tornare indietro nel tempo cioè l'uomo si è sviluppato l'ontogenesi la crescita e quindi adesso c'è il tentativo di ricostruire all'indietro tutte le fasi che hanno portato poi a questo organismo svilupparsi allora la prima la prima domanda la sono scordata è sul è affascinante sul il discorso della possibilità di poter riparare lesioni lesioni spinali allora noi non siamo in grado di fare neuroni vivi in letteratura però c'è chi i neuroni li fa loro li fanno i neuroni dividiamo due tipi di lesioni una è la lesione del midollo spinale prendiamo una lesione motoria il pirenoforo il nucleo sta nel cervello poi viene giù un filo lungo lungo un astone lungo lungo che si inapta fuori della colonna io lì cosa ci devo mettere nulla ci metto perché mi capitò con un collega che mi disse eh ma potrebbe far ponte tra il neurone rotto sopra e il neurone rotto sotto ma nemmeno le novella di Topolino no non è possibile in Cina dove il livello etico apparentemente il controllo etico apparentemente minore promettono di mettere le cellule staminali neuronali nella colonna allora le cellule mesenchimali hanno solo lo scopo di ridurre l'infiammazione producono acido indolacetico che è un immunosopressione importante quindi se io riduco l'infiammazione intorno alla lesione deformo meno la la linea dove un assone tenderebbe a ricrescere ma che possa fare sinapsi tra sopra e sopra se io prendo delle cellule neuronali le metto nel cervello intanto perché funzionino bisogna che sinaptino in un sistema complicatissimo neuroni neuroni a specchio senza ci si può divertire quanto ci pare e non è detto che lo facciano qualcuno ha fatto e ha fatto dei tumori grossi così nel cervello ora non si può dire ma ci sono delle persone seppellite non appisa per fortuna perché sono state trattate in questo tentativo come dire imprudente quindi oggi chi parla di trapianto di cervello dice una sonora stupidaggine non non dico che non sia domani possibile anche perché se nel pavimento del quarto ventricolo cerebrale del topo ci sono cervele staminali e neuronali qualche cosa si sta andando a fare è vero che noi perdiamo neuroni in continuazione ma che cosa ci staranno a fare queste cose faranno solo glia faranno solo struttura ma lo so la seconda domanda è affascinante perché non l'avevo mai pensata così e quindi mi ci sono tanto distratto da scordarmi della prima effettivamente noi andiamo a sezionare i fenomeni complessi cercando di ridurli a fenomeni semplici che poi questi fenomeni semplici siano percorribili in vivo è difficile è possibile perché il tendine del cavallo l'ho ricostruito non c'è versi eccolo lì il cavallo è nel prato però se noi non andiamo per semplificazioni non riusciamo a decodificare niente è chiaro che ogni semplificazione poi è una è una forzatura un errore la nicchia disegnata come ve l'ho fatta vedere è stata utilissima come modello ma era del tutto evidente che non si poteva immaginare di fare la casina di paperino per farci stare la cellula staminale però è un modello che rende bene l'idea oggi si ritorna a una nicchia chimica più ampia più estesa dove le distanze tra le cellule sono ma non avremmo mai potuto realizzare questo livello di dettaglio se non avessimo avuto il concetto semplificato quindi è vero ma è quello che fanno tutte le persone di scienza c'è stato il dottore che è un praticone ma le persone di scienza i scienziati veri fanno questo prendono un modello e lo semplificano scusatemi ma io voglio fare una domanda un attimo a voi ma nei programmi ministeriali della scuola superiore però forse si diversifica da fra per esempio licei e istituti tecnici c'è una parte anche di vabbè si chiama biologia dello sviluppo in biologia quindi per esempio il tema dell'induzione cioè il fatto che un tipo di cellula induca un cambiamento in un altro tipo di cellula queste cose ne parlano perché di questo abbiamo parlato oggi il professore ci ha parlato per più di un'ora viene fatto mai una lezione o no? no no e qualcosa di biologia dello sviluppo che però è però anche biologia cellulare ecco questo appunto è un peccato perché poi parlare di di biologia dei tumori vuol dire come abbiamo imparato anche oggi parlare noi abbiamo fatto abbiamo assistito a un seminario di biologia dello sviluppo che nell'ultimo quarto d'ora si è tradotto nella spiegazione di come funziona un certo tipo di tumore io così l'ho vista ma i tumori per proprio per vivere per crescere e finalmente ammazzare la persona parassitare la persona fino a ucciderla ripercorrono vie normali quello esiste e sono vie normali che non sono più regolate se un tumore per dare metastasi un tumore epiteriale deve acquisire caratteristiche mesenchimali no quindi diverse da quelle che sono nella caratteristica della cellula matura lo fa ma perché l'ha fatto nell'embrione la migrazione della cresta neurale è attraverso le mt la migrazione degli organi che dall'abbozzo primitivo immaginiamo l'abbozzo primitivo del rene che deriva dall'abbozzo primitivo della orta che poi va su lo fanno queste cellule perché acquisiscono capacità di muoversi e di seguire gradienti di chemiatrazione fisiologici il tumore cosa fa? li risveglia cioè qualche danno qualche disregolazione risveglia meccanismi che devono essersi spenti quando il progetto di sviluppo è finito quindi il tumore non è altro che un guasto che può essere unico come nella miroide cronica è un modello fantastico c'è un guasto io quando ci vado sopra da quello ricostruisco tutta la malattia altri hanno bisogno invece di una lesione promovente una lesione inducente una lesione trasformante ma comunque tutto questo alla fine mi porta a una riattivazione di processi non più controllati processi fisiologici che ci sono dentro il DNA non più controllati grazie grazie mille di questa visione quindi niente riguardo ai programmi ministeriali al programma vostro e ora mi è venuto in mente un dubbio sul fatto che io vi parlo sempre di questo libro che noi che noi utilizziamo sempre che biologia molecolare della cellula è scritto da alberts e collaboratori e di questo libro esiste anche un un bigname come lo chiamavamo noi ai nostri tempi un un essentials che è più piccolino che secondo me è una base ne stavamo parlando poco fa che sarebbe la base ideale e perfetta per andare a vedere alcuni argomenti che non sono nei programmi per esempio e però non mi ricordo se nell'essentials c'è ci deve essere senz'altro la parte di biologia dello sviluppo che c'è nell'alberts normale che è un capitolone quindi insomma saranno 50 pagine 100 pagine quindi nell'essentials ci sarà qualcosa quello sarebbe cioè se uno avesse voglia di di buttare via o guadagnare le ultime due lezioni se avanza tempo quello sarebbe un'idea secondo me vincente cioè fare due lezioni con l'essentials di biologia dello sviluppo dell'alberts e la parte di biologia dello sviluppo però la butto lì non lo so se posso dire che io insegno in un liceo classico e la biologia la faccio in quarta quindi ragazzi già di 17 anni abbondanti dopo sì purtroppo ho due ore a settimana e infatti è il tempo che mi stringe un po' faccio la meiosi e da lì prendo la palla al barzo per fare la riproduzione umana quindi ciclo mestruale compagnia bella e lì ci può incastrare un accenno di embriologia rifascendomi un po' anche a quello che ho studiato io quando facevo l'università grazie anche ai vostri contributi solo che appunto bisogna vedere se ho già fatto il numero congro di compiti se non c'è da antelogare qualcuno che c'è il 4 o il 5 insomma bisogna vedere tante cose ecco però se c'ho tempo gradisco di fare queste invasioni se no il trucco può essere dare quella pacca e due capitoletto e tre sull'Essentials come lettura estiva perché poi ragazzi ho una bimba che fa l'Essentials perché poi loro leggono e se voi in modo subdolo dite loro vedete la velocità dello sviluppo è esattamente quello che quando non funziona viene un tumore secondo me loro se lo leggono tutto d'estate dico come lettura d'estate bisognerebbe riuscire a trovare qui l'interdottore spesso quello che porta da un meccanismo ossia siano tutti diversi a trovare un'interdottore che sia uguale per allora no è quello che stiamo cercando di fare ci sono diverse maniere oggi per cercare di approcciare in maniera moderna un tumore nel 82 il gruppo di cinesi ne parlavamo prima scoprì che un tipo di leucemia che era mortale in una settimana e per la quale non avevamo cura guariva dando al paziente l'acido transretinoico l'acido o il transretinoico quindi implicazioni infinite una roba esterna che noi non ci produciamo che sta nelle carote che condiziona fisiologicamente la lettura del DNA in maniera che la cellula possa maturare se c'è un errore nell'apertura del DNA dovuta alla scettilazione degli istoni non si riesce più a leggere il programma di differenziazione e viene la leucemia forzandolo con l'acido transretinoico le cellule maturano e muoiono quindi interruttore la leucemia miroide cronica che vi ho fatto vedere una traslocazione questa volta siamo in un altro modello forma un gene ibrido che crea mima l'attivazione esterna delle cellule a proliferare io in maniera conformazionale entro nella struttura e la posso bloccare un altro modello di interruttore è quello di cercare di interrompere il cross-talking con il microambiente quello che vi ho fatto vedere nel mieloma e vi ho parlato di un farmaco ora qui non era terapia non ci poteva entrare non ci voglia entrare ma il bortezomib che è un inibitore del proteosoma quindi dalle degradazioni delle proteine intracellulari fa questo blocca l'angiogenesi quindi diventa sfavorevole per la cellula neoplastica lo sviluppo mentre favorisce la formazione di osso dove si è fatto il buco e cerca di ripararlo è un altro segnale di interruttore quello che fanno i tumori però purtroppo è che normalmente non hanno un guasto una mutazione ne hanno tante e soprattutto le cambiano continuamente quindi una volta che io sono riuscito a trovare guarda è importante la fosforilazione di FLT3 in un tipo di leucemia lui immediatamente mi cambia perché è una fucina ancora una volta il tumore rifà quello che fa la natura la natura cambia continuamente prima si diceva invariabilità del DNA oggi si sa che non c'è nulla di più variabile del DNA è una roba non solo fa mutazioni di basi ma si sposta da un pezzo all'altro nei cromosomi movibili allora tutto vero Watson e Crick solo che non è vero che il DNA è invariabile il DNA aggiusta continuamente e modifica e cosa fa? non fa altro che selezionare quegli individui più adatti a sopravvivere in quel momento noi siamo in un sistema che è un tutt'uno l'ambiente cambia finirà che nasceranno gli uomini un giorno che respirano l'anidride carbonica probabilmente o non saranno più uomini saranno fatti in un'altra maniera con l'orecchio a punta ma sicuramente la natura modifica in continuazione e il tumore quello fa modifica in continuazione a una macchina dove i sistemi che cercano di tener fermo il DNA perché uno rimanga così come è e addirittura i sistemi che cercano di riparare un eventuale danno del DNA sono bloccati P53 è un oncogene e ora va tanto di moda perché è quello più conosciuto come blocco per far riparare il DNA e stai tranquillo che il tumore è cattivo quello lì lo mette fuori uso la prima cosa che fa perché è è un e ripete nel suo modello scellerato perché è scellerato il tumore è stupido perché fa male all'ospite ma anche a se stesso quando io sono morto il tumore muore anche lui non c'è verso quindi la perdita dell'organizzazione può succedere anche nella società sono sì 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 visto che anche con questa metafora sociale mi interessava non so se poteva aggiungere qualcosa rispetto all'educare il tumore fargli prendere una strada di differenziamento non so se si poteva riprendere qualcosa sì quando quando io conosco il guasto se il guasto perché se ho una lesione semplice se io blocco se io blocco con la leucemia con la leucemia con la leucemia altra rara lesione una malattia dove c'è una malattia dove c'è un danno il problema dei tumori è che di danni ce n'ho tanti e allora in quel caso lo deve affrontare diversamente oggi la speranza è l'immunologia perché una cosa che fa il tumore addormenta il sistema immunitario quando io faccio un trapianto di midollo ora posso andare a ruota libera dove sei quando io faccio un trapianto di midollo prendo un paziente con la leucemia gli distruggo il suo midollo e do il midollo di un donatore compatibile compatibile non è mai non esiste un uguale a me in tutto il mondo però che ci si avvicina in realtà io ho distrutto il midollo l'ho portato a un livello per il quale non ho più capacità di ricostruire forse il midollo originale poi spiego il forse ma io non riesco a distruggere tutte le cellule leucemiche perché se io fossi riuscito a distruggere tutte le cellule leucemiche l'avrei guarita prima quella malattia il midollo nuovo però si porta dietro il sistema immunitario del donatore che non ha sviluppato tolleranza verso una malattia che ha cominciato piano piano a farsi posto e piano piano ha convinto il sistema immunitario proprio che non è malattia guarda io anch'io sono buono non sono cattivo il midollo nuovo ha messo che riconosca il ricevente come uguale la malattia non la conosce quindi quella l'aggredirà sicuramente allora il trapianto è un sistema immunologico oggi abbiamo alcuni farmaci alcuni meccanismi che abbiamo imparato a conoscere che ci fanno capire come fa il tumore a tenere ferme le cellule l'esercito avversario a ingannarlo a dirgli no guarda io non ci sono allora se noi blocchiamo quel messaggio e in tanti casi lo sappiamo fare pensate melanoma melanoma dieci anni fa moriva qualche giorno cioè due mesi tre mesi lo levavi era già andato in cip superato mezzo millimetro di profondità melanoma ora ci sono pazienti che sono sei anni cioè io personalmente un'amica che fa parapendio perché prende una pasticca ma che blocca questo meccanismo di informazione anni fa quando non c'era questa cura fece un trapianto di midollo a un paziente a un amico col melanoma cioè gli detti talmente tanta terapia sperando di ammazzare tutte le cellule del melanoma poi non gli funzionava più il midollo glielo glielo detti dalla sorella e questo andava e il melanoma c'era una metastasi nel cervello piano piano si riduceva quando cominciò ad avere reazioni diffuse perché il midollo del donatore non si ritrovava a casa sua e quindi distruggeva tutto quello che aveva dintorno e dovemmo sopprimere un po' la risposta immunitaria schizzo via il melanoma quindi un altro approccio del quale non aveva senso parlare oggi è quello del cross-talking tra neoplasia e sistema immunitario e siamo abbastanza smart da riuscire a dire al sistema immunitario guarda che non è vero che lui è buono che è dei nostri lui è cattivo e allora il sistema immunitario non si fa più inibire perché gli mascheriamo un recettore e riesce a controllare il melanoma il tumore del polmone il tumore del polmone metastatizzato cosa parliamo tre anni fa parlavamo di giorni oggi oggi vanno avanti non l'abbiamo ancora guarito però non lo sappiamo nel morbo di Hodgkin la cura del sistema per i pazienti resistenti alla terapia convenzionale la cura immunologica noi la dobbiamo continuare fino a progressione ma ha senso che la continui dopo due anni che non vedo neanche una cellula malata forse 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 ce l'abbiamo fatta guarirlo bisognerà avere il coraggio di provare c'è un'altra domanda io spero c'entri abbastanza volevo sapere come mai chi ha avuto tumori non può donare il sangue perché c'è sempre la paura c'è sempre la paura che ci sia una cellula in giro una cellula neoplastica in giro e che questa possa atticchire è in realtà una paura remota perché se il sistema di istocompatibilità non è uguale un'eventuale cellula malata il sistema immunitario la riconosce e l'ammazza però per esempio c'è capitato di una mamma che ha donato il rene al figlio tanto per essere la mamma dopo tre mesi viene con un tumore con un linfoma nel mediastino il rene è da un'altra parte allora ha tutti coi capelli ritti e per fortuna cominciamo a curare la mamma e va bene si va a cercare nel figlio in maniera stretta e dopo qualche mese al figlio gli è venuto lo stesso linfoma per fortuna con le tecniche di oggi siamo riusciti a trovare nel sangue le tracce di questo linfoma DNA circolante dell'infoma addirittura prima che si manifestasse la terapia abbiamo fatto la terapia vi tranquillizzo sono vivi tutti e due e il rene trapiantato sta funzionando bene quindi però lì era un sistema compatibile mamma figlio in un sistema compatibile ma è prudente che se uno ha avuto un tumore non dona il midollo non dona il sangue oggi riusciamo a trovare le cellule tumorali circolanti con una sensibilità molto importante ma di più sapendo che ogni cellula del nostro organismo butta in circolo la roba sua e quando muore va in circolo tutto riusciamo a cercare DNA circolante caratteristico se c'è una neoplasia che ha un marcatore un gene sbagliato andiamo a cercare quel gene del sangue circolante quello che chiamano biopsia liquida che è una un'altra bischerata perché la biopsia è prendere un pezzetto chirurgicamente ma siccome lo vogliono fare gli anatomopatologi chiamano biopsia liquida un esame del sangue ma no non costa tanto no no costi ormai costa una PCR quindi non costa tanto quindi dicevo ne consegue che non si può ne consegue che non si può avere donazioni di organi da uno che ha avuto un tumore ecco no è uno screening molto grosso quando noi dobbiamo prendere un donatore facciamo uno no a parte il passato ma facciamo uno screening attuale molto molto spinto per evitare non solo perché non ci siano malattie infettive ma anche perché non ci siano malattie neoplastiche ci sono altre domande? una domanda che potrebbe sembrare da talk show però c'è l'opportunità di avere il professore quindi tra le malattie del sangue lei prima insomma ci ha fatto degli esempi per quali c'è attualmente tra le varie leucemie una prognosi più favorevole proprio una richiesta da cittadina non da ecco allora la cosa è molto la domanda è molto sensata e molto complicata stranamente o forse ha un senso noi abbiamo cominciato a identificare nelle leucemie più rare alterazioni specifiche verso le quali possiamo agire quindi prima di tutto la leucemia premierocitica che è veramente una minoranza delle leucemie acute poi la leucemia mieroide cronica poi alcune le mielodisplasie midollo vecchio dove il danno è essenzialmente un'alterazione della metilazione quindi dell'espressione allora andando addosso con gli antimetilanti riusciamo per qualche anno a ricondurle leucemia mieroide cronica abbiamo detto ora la leucemia linfatica cronica leucemia linfatica cronica è data da una attivazione costitutiva del recettore sul linfocita B e noi possiamo bloccare selettivamente il recettore del linfocita B quindi abbiamo un meccanismo di terapia tutte queste robe qui a parte le leucemie acute tutte le forme croniche quindi molti linfomi noi con le nuove terapie riusciamo a portarle a zero ma non riusciamo a guarirle per guarirle ci vogliono le canonate della chemioterapia il resto ora ce la controlla però dimostra che la cosiddetta cellula staminale che a me piace più chiamare cellula iniziante tumore non ha bisogno di crescere non ha bisogno di quella mutazione ma la mutazione determina modificazioni a valle ma lei finché sta ferma se ne frega se non ci sono altre domande io ringrazio infinitamente Mario e tutti voi e tutti noi per le domande che siamo riusciti a fare detto questo noi ci vediamo all'ultima lezione fra poche settimane arrivederci